Embry ma o mai, sembra un gioco di parole, ma in realtà è il verbo più bello di questo Evangelo, di questa Domenica, che indica quanto Gesù si fosse commosso interiormente, en pneumatin, nel suo spirito, nell'intimo, una commozione che è un dolore proprio che tocca la parte più debole, più intima di sé. Ha perso Lazzaro, il suo amico, e piange, il verbo Ducrao, piange, scendono proprio le lacrime dai suoi occhi, non è soltanto il verbo Klein, un pianto disperato, un pianto forte, un pianto decisivo, un pianto addolorato, però tuo fratello, promette a Maria, risorgerà, il verbo Anistemi, si rimetterà in piedi. Ma, signore, se tu fossi stato qui, è l'invocazione di tutti noi, quando perdiamo una persona cara, quando chiediamo, signore, ma tu dove sei nel momento del più grande dolore? Così Lazzaro, di fronte alla sua morte, e la risurrezione di questo suo amico avviene con un ordine perentorio, exo. Lazzaro, vieni fuori, bellissimo, esci, non ti chiudere, non rimanere nel tuo sepolcro, vieni, cammina, esci, vieni fuori, sbagliando, ma proponendole in maniera più efficace, esci fuori, vieni, creativamente non corretto, però è quello che vuole dire Gesù, liberatelo e lasciatelo andare libero. Una ragazza, Sofia Sacchitelli, la settimana scorsa è morta a 23 anni, studentessa di medicina a Genova, le diagnosticano un angiosarcoma, un tumore del cuore che ha questa percentuale, una persona su 3 milioni, malattia rarissima. Immaginate come questa ragazza giovanissima si potesse sentire di fronte a questa malattia, una su 3 milioni, uno su un milione ce la fa, ma uno su 3 milioni. Perché proprio a me? Perché questa cosa a me? Che cosa ho fatto di male? Possibile che io sia così rara da meritarmi questa condanna e che non ha scansato? E io sia stata proprio la prescelta di questo destino in fausto? Dopo un momento di disperazione, a un certo punto prende in mano la sua vita e dice non può finire così, non mi posso rinchiudere nel sepolcro, non posso stare ferma, devo fare qualcosa. Apre un'associazione per poter divulgare la ricerca di questa malattia rara, questa associazione si chiama Sofia nel cuore e dice basta, devo dare a tutti un segno profondo e bello di quello che sono e di quello che la ricerca potrà fare e voglio aiutare tutti coloro che come me sono affetti da malattia rara. Non posso stare ferma, non posso morire in anticipo. Questa è la risurrezione di Lazzaro, la sua rianimazione, perché poi Lazzaro morirà come ciascuno di noi. lei è venuta fuori, ha tolto la grande pietra, il grande masso che era davanti al sepolcro e ha detto basta, devo vivere. Questo devo vivere? Liberatelo, lasciatelo andare. È la liberazione che ogni volta noi chiediamo al Signore quando pensiamo che il destino ormai ci abbia annientato. si chiama metterci a letto, guardare il soffitto e dire ormai non c'è più nulla da fare e Sofia ha scelto di vivere fino all'ultimo istante della sua storia e della sua vita ed è risorta prima di morire. Vieni fuori. C'è Gramellini che sul Corriere ha scritto e se c'è un'idea di immortalità, a me piace vederla legata a questa storia di Sofia che ha lasciato per sempre nel tempo la testimonianza che la vita si può vivere dando un esempio concreto di forza e di coraggio, anche fino all'ultimo goccio, l'ultimo istante della propria esistenza. Buona risurrezione a tutti. Buona risurrezione a tutti.